voice and sound healing è il cerchio shamanico che porto ormai da tre anni ed è una tecnica specifica da me utilizzata unica in italia è nata dopo il mio viaggio in peru dove tra popolazione indigene luoghi magici e rituali sacri le guide mi hanno indicato cosa avrei dovuto portare con me nel mio paese essa si basa su tecniche antichissime come le fumigazioni il viaggio shamanico la canalizzazione di canti codici lingue sacre e l'utilizzo degli strumenti musicali ancestrali suonati sempre in modalità di canalizzazione lo sciamano ha una conoscenza profonda dell'essere umano e della la sua vera essenza che è il vuoto da millenni le civiltà ancestrali sanno che la materia è solo una forma di energia e che di base esiste solo un grande spirito che oggi chiamiamo campo quantico lo sciamano sa che le emozioni le sensazioni che proviamo sono energia che prende forma dentro il corpo umano ed esse si modificano attraverso il suono la stessa scienza solo oggi sta arrivando a capire come funziona questo essere che chiamiamo umano e sta riconoscendo il potere della meditazione delle terapie energetiche delle terapie biosonore e più in generale del potere che la vibrazione e l'elettromagnetismo hanno di influenzare le nostre percezioni lo sciamano guida le persone dentro loro stesse per vedere ciò che deve essere visto sapere ciò che deve essere compreso sentire ciò che deve essere sentito e lasciare andare ciò che deve essere lasciato andare le ferite i blocchi il karma ogni cosa che ci disturba o ci condiziona parte da dentro noi stessi e attraverso il viaggio dentro di sé è possibile comprendere e rilasciare ciò che non è più utile grazie a tutti La differenza sostanziale tra la normale musicoterapia e un cerchio sciamanico è che lo sciamano, attraverso le sue operatività, richiama energie specifiche a lavorare nel campo e sui partecipanti e nella condizione di apertura e sensibilità data dal cambio di frequenze cerebrali, esse vengono avvertite chiaramente. Oltre ad essere una pulizia energetica, un riallineamento dei chakra e dei corpi sottili e un viaggio all'interno di se stessi, il voice and sound healing è anche un allenamento allo stato espanso della meditazione, all'affinamento delle qualità sovrasensibili e sensitive che ognuno di noi ha dentro di sé. E poi è tanto altro ancora, ma il vero e unico modo per capirne e sperimentarne i benefici e ovviamente partecipare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.